Cambiamenti climatici e agricoltura, come rispondono le politiche comunitarie e in special modo la politica agricola comunitaria? Innanzitutto premetterei che il tema del cambiamento climatico è stato ufficialmente esplicitato per la prima volta solo a partire dall'attuale periodo di programmazione della politica agricola comunitaria, cioè la politica agricola comunitaria 2015-2020. Se da una parte questo obiettivo è stato chiaramente indicato da parte della Commissione europea, d'altra parte gli strumenti applicativi messi in atto per rispondere a questa esigenza non sono ancora stati chiaramente definiti, soprattutto non abbiamo degli strumenti ancora specifici per ridurre le emissioni da parte del settore agricolo, con qualche eccezione. Ad esempio il pagamento greening sul primo pilastro, che rappresenta una delle principali e probabilmente più discusse novità nell'attuale programmazione, prevede che tutti gli agricoltori che ricevono degli aiuti, dei sostegni al reddito, devono anche rispettare delle semplici norme, le pratiche greening, benefiche per il clima e per l'ambiente. Queste pratiche sono rappresentate dalla diversificazione delle culture, dal mantenimento dei prati permanenti e dei pascoli e dalla costituzione di aree ecologiche sulle superfici agricole. Degli strumenti invece più targhettizzati si trovano nel secondo pilastro della PAC, cioè le politiche di sviluppo rurale. Qui troviamo i pagamenti agro-climatico-ambientali, che sono delle misure volontarie che gli agricoltori possono scegliere di adottare e attribuiscono alle aziende dei pagamenti per adottare delle pratiche agricole ecocompatibili al di sopra del livello definito dal greening, come ad esempio i pagamenti per l'agricoltura conservativa, cioè la minima lavorazione e la semina su sodo. Questi sono degli strumenti che incentivano gli agricoltori ad adottare delle pratiche di lavorazione dei terreni più blande e quindi riducono i consumi e di conseguenza anche le emissioni di gas serra. Faccio notare che anche strumenti tradizionalmente più di carattere economico, come gli incentivi per gli investimenti, oggi sono particolarmente condizionati non solo dalla performance economica, dal dover dimostrare una performance economica da parte delle aziende, ma sono sempre più condizionati anche dal dover dimostrare una performance in termini di riduzione delle emissioni. Per ultimo vorrei asservare che giusto in questi giorni la Commissione ha emanato il suo position paper riguardo alla programmazione della futura PAC dopo il 2020 e sarà interessante capire come questo tema verrà sviluppato e quali strumenti più ambiziosi potranno essere adottati nel futuro.